Prima di guardare il video, voglio ricordarti di premere il pulsante iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Confermate le voci circolate nei mesi passati, Belen Rodriguez non farà più parte del palinsesto Mediaset per la prossima stagione. La conferma arriva con l'ufficialità dei palinsesti 2023-2024. L'indiscrezione era stata lanciata da Dagospia qualche tempo fa, anticipando che la showgirl argentina non sarebbe stata presente nel prossimo giro di programmi. Al suo posto, sembra che gli autori de Le Iene stiano pensando a Veronica Gentili. La giornalista è stata avvistata a cena al ristorante di Mediaset con Davide Parenti, il che ha alimentato ulteriormente le speculazioni. Per Belen, tuttavia, ci sono ancora opportunità. Secondo Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, Belen farà parte del cast della quarta stagione di Celebrity Unted, il reality show di prime video. Parteciperà al programma insieme a sua sorella Cecilia. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, non c'è stato alcun accenno a Belen Rodriguez, confermando l'indiscrezione. Belen ha risposto all'annuncio con un messaggio positivo, quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci. Ha inoltre sottolineato che non è stata licenziata, ma ha scelto di fare una pausa. Nonostante questo, poche ore fa Simone Coccia con l'aiuta, ex compagno di Stefania Pezzopane ed ex concorrente del Grande Fratello, ha scritto un post al veleno contro la showgirl argentina, esprimendo la sua gioia per la notizia con un post molto critico. Finalmente il grande Pier Silvio Berlusconi ha cacciato una persona che in televisione non aveva né arte né parte. L'ex di Corona, Belen, quanto ci godo. Naturalmente, ci sono state molte polemiche in risposta al post di Simone Coccia con l'aiuta, con molti utenti che lo hanno accusato di vivere alle spalle della sua relazione con Stefania Pezzopane e della sua partecipazione al Grande Fratello.